Ha deciso di rimettersi in gioco. Lorenzo Italiano presenterà sabato mattina la sua candidatura a sindaco di Milazzo. Dopo Giovanni Formica, Salvatore Presti, Carmelo Pino, Carmelo Formica e Barbara Larosa, l'ex sindaco ufficializzerà il suo impegno nella prossima tornata amministrativa attraverso una conferenza stampa in programma presso il Comitato Elettorale di Via 20 Settembre al Civico 54. In una nota Lorenzo Italiano ha definito l'occasione proficua per un confronto con i giornalisti e la cittadinanza al fine di presentare il suo progetto politico in vista delle elezioni del prossimo 31 maggio. E sempre nella giornata di sabato alle 18.30, Italiano terrà il suo primo evento presso il Salone Parrocchiale di San Pietro spiegando che la scelta coincide con un preciso punto del suo programma, quello cioè di interessarsi particolarmente alle sorti della periferia per valorizzare le risorse offerte dalla piana. L'ex sindaco di Milazzo a tal proposito intende incontrare i cittadini in quartiere e piazze ed ascoltare le diverse esigenze al fine di sottoscrivere un programma condiviso attraverso l'aiuto degli strumenti costantemente offerti dalla rete telematica. Le idee su cui Lorenzo Italiano vorrebbe basare il suo programma elettorale si fondano principalmente su ambiente, turismo, tassazione sociale, la costruzione di un porticciolo turistico alle spalle del Paladiana e la programmazione di un progetto di raccolta differenziata.